Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dello 0,70%, sulla stessa linea, il Nasdaq 100 termina la giornata in aumento dello 0,79%. In frazionale progresso il Nikkei 225, più 0,48%, come l'indice cinese, 2,36%. Si scatenano gli acquisti a piazza affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,57%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,34%, composta Parigi, che cresce di un modesto più 0,41%, apprezzabile rialzo, più 1,64%, a Milano per il comparto bancario. Protagonista credito valtelinese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,53%. È previsto mercoledì negli Stati Uniti l'annuncio delle scorte di petrolio, degli ordini beni durevoli e degli occupati ADP. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti l'agenda prevede la S&P che iso Schiller.